Ciao a tutti, volevo provare a iniziare questa brevissima serie di pillole video che mi è stato chiesto di realizzare provando a inquadrare un pochino il tema di cui stiamo discutendo. E' indubbio che ci si trovi in una situazione eccezionale per il mondo della scuola, una situazione che ci ha visto in tempi estremamente stretti a dover adottare una modalità didattica a distanza, indipendentemente dal livello di preparazione, dal livello di competenza dei docenti, dal livello di competenza degli studenti, dalle condizioni oggettive in cui tutti ci muoviamo, dal grado di scuola, tutti siamo stati costretti a vedere come unica possibilità di proseguizione della nostra didattica la modalità a distanza. Questo sicuramente è sconvolgente e non era stato previsto in nessuna maniera neanche nelle ipotesi più estreme. Oltretutto questa operazione estremamente rapida, estremamente disruptive, come direbbero gli inglesi, ha dovuto avere luogo in tempi molto brevi, molto brevi perché sostanzialmente dopo le vacanze di carnevale le scuole non hanno ripreso la loro attività. E quindi tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno dovuto pensare ad una modalità didattica alternativa a distanza, l'unica possibile. Questo in un momento in cui, come sappiamo, anche gli stessi docenti non hanno più potuto incontrarsi tra di loro collegialmente come facevano in condizioni abituali e quindi anche le stesse strutture scolastiche, con i dispositivi, con gli spazi, con il personale che vi operava, non erano più raggiungibili di fatto. Questa è una condizione eccezionale che ci ha portato la scuola del nostro paese, ma come le scuole della maggior parte dei paesi, almeno dell'Europa occidentale, a confrontarsi con una realtà nuova, con la didattica a distanza. Non la didattica a distanza come viene progettata ed erogata o sperimentata in diversi contesti, laddove è diventata usuale, come nell'università o laddove la scuola deve essere necessariamente erogata a distanza per vari motivi, perché sono sostanzialmente legati alla logistica o alla distanza. No, in questo caso tutti si è dovuti salire a bordo di una grande sperimentazione che non avremmo pensato di fare in condizioni normali. Volevo provare a riflettere su questo tema, provando a ragionare su alcune categorie. La prima categoria su cui volevo lavorare e provare a riflettere è quella della progettazione della didattica. Noi siamo abituati a progettare la didattica sostanzialmente sulla base del curriculum della nostra scuola. Quando va in aula, il docente in genere ha degli obiettivi di insegnamento, che sono quelli assegnati al suo anno di corso per la classe che ha in carico e sulla base di questo, con l'aiuto del libro, la traccia e l'aiuto del libro di testo e della sua sensibilità e esperienza di insegnante, adatta la propria didattica alla classe che si trova di fronte, utilizzando le metodologie didattiche che ha avuto modo di sviluppare nella sua esperienza e applicandole al contesto, con una specifica attenzione al feedback del contesto. Questo è quello che fanno tutti gli insegnanti. Ma in questo momento, dovendo lavorare su una didattica a distanza, succede che questo approccio diventa difficile. Diventa difficile perché quando si fa una didattica a distanza, è difficile, ne parleremo più avanti, sostenere, traslare gli stessi tempi d'aula nella didattica a distanza, perché questa traslazione diventa difficile. E quindi che cosa occorre fare? Necessariamente, come stanno scoprendo tutti i docenti che si occupano, che sono stati chiamati a lavorare in questo senso, stiamo scoprendo tutti insieme che la didattica va riprogettata. Va riprogettata passando da un livello di macro-progettazione, che è quello dello svolgimento della didattica, del cosiddetto programma lungo il quadrimestre e l'anno scolastico, adattandoli volta in volta, si passa invece ad una progettazione che deve essere fatta su ogni singola lezione. La lezione spesso ha bisogno di essere suddivisa in unità di livello ancora più piccolo, perché le risorse di attenzione degli studenti con la modalità online sono diverse, i tempi sono diversi e di conseguenza anche la progettazione si deve fare più granulare. Quindi la stessa lezione finisce per essere spacchettata in nuclei di contenuto più piccoli e ciascuno di questi nuclei deve essere realizzato predisponendo dei materiali appositi. Quindi questo è il livello della progettazione. La progettazione della didattica cambia e diventa più complessa e chiede molto più tempo al docente che quindi si ritrova un carico di lavoro importante, non tanto da fare in aula dove magari le ore si riducono addirittura anche per motivazioni banalmente legate alla disponibilità dei device da parte degli studenti, ma si trova a fare un lavoro molto più complesso in background a casa per programmare la didattica. Il secondo tema è la pratica della didattica. La pratica didattica, come tutti stiamo sperimentando, cambia. Anche essa, come dicevamo, fai i conti con i tempi che sono a disposizione degli studenti, tempi che sono contingentati dall'organizzazione familiare, dal fatto che gli studenti sono a casa e spesso devono seguire le lezioni, soprattutto per gli studenti più piccoli, con l'aiuto dei genitori, almeno finché non sviluppano competenze necessarie a farlo in autonomia. E comunque la presenza accanto allo studente è sempre quella del genitore che sta a casa. Una condizione particolare perché mai avevamo sperimentato un'immersione così massiva e così importante dei genitori all'interno della didattica della scuola e non soltanto nei compiti. Quindi cercare di fare una didattica che non diventi esclusivamente un compito a casa richiede, come dicevamo prima, prima una progettazione di dettaglio, delle unità minime della lezione e poi anche delle modalità di erogazione della didattica diverse. Ad esempio la flipped classroom, ossia rendere attivi gli studenti, anche per cercare di sfruttare al meglio i momenti di attenzione che si riescono a costruire. Perché se alla giornata di 5 ore di didattica sostituiamo alcune ore, forse, fatte di circa 40 minuti, ecco che allora la didattica deve essere ristrutturata e si ristruttura attraverso la microprogettazione, assegnando dei compiti sicuramente agli studenti e dei compiti che però siano di preparazione al momento in presenza che deve esserci e dove il ruolo dell'insegnante diventa importante. Questo è un altro aspetto che varrà la pena di toccare nei prossimi incontri. Un ulteriore livello è il tema della valutazione, un tema importante, un tema chiave di cui si discute molto. Che cosa vuol dire fare la valutazione in un contesto come quello che stiamo vivendo? È difficile oggettivamente, è difficile perché la valutazione come sappiamo si divide sui due piani della valutazione formativa e della valutazione sommativa. la valutazione formativa è quella che facciamo durante il percorso di studio, durante il quadrimestre con l'obiettivo di dare dei feedback agli studenti e di ricevere noi stessi come docenti dei feedback sugli avanzamenti, sulla situazione e quindi consentire agli studenti di fare degli adeguamenti nel loro modo di studio o di capire quali aspetti devono migliorare nei loro apprendimenti. La valutazione finale, ossia quella mirata al voto sostanzialmente, è un altro aspetto impattato, perché in questo caso subentra anche il problema dell'affidabilità della valutazione e della prova. E allora entra in gioco il tema del come devono essere predisposte le prove, perché ovviamente non posso più fare il classico compito in classe avendo spesso soltanto l'impressione di un controllo reale dello studente, perché poi il docente è uno e gli studenti sono tanti e sviluppano le più complesse tecniche per cercare di raccogliere informazioni in modo alternativo durante le prove, diciamo così. Quindi diciamo che anche la valutazione assume un valore diverso in tutte e due le sue accezioni. Il feedback allo studente diventa ancora più importante, perché lo studente deve in qualche modo ha bisogno ancora più di un feedback, perché solo a casa è separato dalla sua classe, quindi il feedback dell'insegnante diventa molto più diretto, fondamentale e personale. In questo contesto diventa ancora più importante la capacità dell'insegnante di spiegare la valutazione e quindi spiegare molto bene quali sono i criteri della valutazione, portare lo studente a comprendere la valutazione, perché è fondamentale, soprattutto nella sua dimensione formativa. Nella sua dimensione sommativa, la valutazione ovviamente deve essere affidabile. Come faccio a raggiungere questa affidabilità? Sostanzialmente sono costretto a cercare di costruire delle valutazioni che siano più centrate sulle competenze e sui compiti di realtà, perché sono gli unici che mi consentono di capire se lo studente ha davvero appreso e sa davvero mettere in campo delle competenze. Costruire prove basate sulle competenze è molto più complesso, è molto più complesso come è più complesso valutarle, ma rappresenta probabilmente l'unica strada in questo momento rispetto a prove invece più centrate sulle conoscenze, che come sappiamo sono facilmente aggirabili nei contesti in cui ci troviamo a lavorare sulla valutazione. Non di meno non possiamo venire meno alla valutazione, perché abbiamo riassunto prima la valenza fondamentale della valutazione, anche come ritorno verso lo studente del suo percorso. Non dimentichiamo che in questo momento particolare tutto il contesto scuola ruota attorno al rapporto che il docente riesce a restaurare con i suoi studenti perché non abbiamo più, gli spazi fisici non ci sono più, le aule non c'è più, l'istituzione scolastica non c'è più, tutto questo in questo momento e quindi la scuola come mai prima forse è davvero il docente e quindi anche quella componente che sta nella valutazione diventa un elemento fondamentale che è precisa la responsabilità del docente esattamente come prima restituire allo studente nel modo corretto perché lo studente sia in grado di comprenderlo, lo studente naturalmente anche la sua famiglia, ma ripeto, insisto, il primo a dover comprendere la valutazione è lo studente perché è lui il focus dell'apprendimento e se comprende la valutazione sarà in grado di intervenire sui suoi meccanismi di apprendimento, se non la comprende e la vive in modo errato allora può diventare anche un ostacolo. Un aspetto importante è quello anche della comunità, cioè in questo momento in cui siamo separati nelle nostre case e con le nostre famiglie naturalmente ma diciamo ciascuno separato dalle sue abituali comunità, quegli studenti della comunità è sicuramente quella che si struttura intorno alla scuola, ecco che forse diciamo il risultato, l'aspetto più interessante più utile da tenere in considerazione nel momento in cui si fa una didattica a distanza in una condizione di emergenza come questa, quindi non in condizioni ordinarie ma in questa situazione forse l'aspetto più importante è quello di capire se si riesce davvero a costruire a mantenere un senso di comunità con gli studenti, con le famiglie, con i colleghi anche attraverso la mediazione tecnologica. Questa è una domanda aperta, non c'è una risposta, non dipende dalle tecnologie, dipende molto da come la comunità si strutturava prima perché poi le persone sono le stesse e le dinamiche sono simili, dipende da come questa comunità si comporta nel momento in cui la mediazione e la relazione sociale diventa esclusivamente attraverso le tecnologie digitali e quindi entrano in campo le competenze nell'usare le tecnologie digitali, l'accesso, gli strumenti e diciamo forse il risultato più importante a cui dovremmo mirare tutti noi che cerchiamo di costruire una didattica digitale a distanza nell'emergenza attuale, forse il risultato più importante è davvero quello di riuscire a mantenere in vita una comunità, un costrutto di comunità anche attraverso la mediazione con tutte le difficoltà e forse è questo il focus perché difficilmente riusciremo a, abbiamo il tempo di acquisire le competenze, di costruire una progettazione didattica, di acquisire gli strumenti, non c'è tempo per tutto questo, forse ci sarà ma non in questo momento e la cosa importante è mantenere probabilmente la relazione, la relazione che è importante per gli insegnanti, è importante per mantenere la collegialità degli insegnanti, è importante la relazione tra l'insegnante e gli studenti, è importante la relazione tra gli studenti ed è importante la relazione con le famiglie, quindi proprio forse questa dimensione della comunità è uno degli obiettivi forse a cui davvero bisogna attendere. Un ultimo punto che vorrei poi approfondire magari anche nel seguito di questi incontri è sicuramente quello della sostenibilità della didattica a distanza. La sostenibilità è un tema centrale. In questo momento noi abbiamo esigenza di rendere la nostra didattica a distanza sostenibile per i docenti, quindi tenendo conto delle competenze dei docenti e cercando di migliorarle se è possibile attraverso, certamente non dei corsi in questo momento, ma attraverso il coaching di colleghi magari più esperti, adottando delle soluzioni tecnologiche a minore complessità, anche se sembrano meno ricche di altre, ma fondamentalmente ricordiamoci sempre che uno degli obiettivi è quello di mantenere la relazione e non avere la relazione e utilizzare tecnologie avanzate, ma tagliare fuori una parte degli insegnanti, una parte degli studenti non è un obiettivi soddisfacente, non è un risultato soddisfacente. Sostenibilità per gli studenti, gli studenti vivono nelle loro case e per loro avere una didattica sostenibile vuol dire in primo luogo una didattica che tenga conto dei tempi, che sono diversi come dicevamo, i livelli di attenzione sono diversi, una lezione di 40 minuti è molto impegnativa per lo studente soprattutto se è uno studente che viene mantenuto in un ruolo passivo. Questo video che sto producendo per voi dura circa 20 minuti, è già impegnativo, è già importante. Di più sarebbe sostenibile? Non lo so. Sicuramente l'interazione è importante l'interazione rende sostenibile anche l'isolamento. I tempi, i tempi sono fondamentali per le famiglie e per gli studenti. I tempi come abbiamo visto si stanno dilatando lungo tutta la giornata e quindi il tradizionale aeroscolastico è difficile da mantenere. Dobbiamo tenere conto del fatto che anche i genitori possono lavorare a distanza. I device, i computer, i tablet, gli smartphone possono non essere tutti disponibili sempre. Non tutti hanno uno spazio nella propria casa da dedicare. Molti devono gestire lo spazio e il tempo. Quindi la sostenibilità ha molti aspetti da tenere in considerazione. Il ragionario sulla sostenibilità è una parte del successo anche nella costruzione della comunità, perché una comunità che non lascia indietro è una comunità che funziona, senza naturalmente arrivare all'estremo di una comunità che non fa cose perché deve assestarsi sul minimo con un denominatorio e anche in questo caso ovviamente non sarebbe efficace. Il tema delle competenze, dei tempi, delle competenze, delle risorse tecnologiche è quindi declinato sul tema, sulla dimensione dei docenti e della scuola, quindi sulla dimensione degli studenti e sulla dimensione delle famiglie. E sulla base di questo si costruiscono i contenuti. Adesso vi saluto e dico arrivederci al prossimo incontro. Grazie!